Oggi ci occupiamo di volumi e integrali. Tutti sappiamo che gli integrali sanno calcolare le aree, ma in realtà sono ancora più potenti di così, li possiamo usare anche per calcolare i volumi. Video molto pratico, quindi andiamo su formule, come si fanno gli esercizi, tutte le cose teoriche profonde dietro ne lasciamo per un altro momento. Dunque, l'idea di partenza è che ci sono due grosse tipologie di integrali per calcolare i volumi, ovvero abbiamo a che fare con i volumi di rotazione, che sono i primi che vediamo che hanno dentro più casistiche, e poi ci sono i volumi per sezione, questi li vediamo dopo in coda. Ci occupiamo prima dei volumi di rotazione, che vuol dire sta roba qua? Alcuni solidi, alcuni oggetti tridimensionali che voi conoscete possono essere ottenuti ruotando delle figure piane bidimensionali. Per esempio, se prendo un triangolo e lo faccio girare attorno a uno dei suoi lati, quindi faccio così, lo faccio ruotare, cosa salta fuori? Mi salta fuori un bellissimo cono, quindi il cono, altro non è che un triangolo ruotato. Poi, che ne so, per esempio, se prendete un rettangolo e lo fate girare attorno a uno dei suoi lati, quindi vi fate fare il giro per così, cosa salta fuori? Salta fuori un bellissimo cilindro, prendete un cerchio, lo fate ruotare attorno a un suo diametro, salta fuori una bellissima sfera. E qua so già che qualcuno sta pensando, eh ma Matteo, ma il quadrato non è la rotazione di niente, bella scoperta, ho detto alcuni solidi possono essere ottenuti dalla rotazione di volumi, non soltanto roba che già conoscete. Che ne so, io posso pigliare una qualsiasi figura piana brutta quanto volete, che ne so, un affare fatto così, lo posso far ruotare attorno ai suoi lati e ottenere un solido tridimensionale che avrà un suo volume, che ne so, qua ha venuto fuori una sorta di bicchierone da gelato bellissimo. Cosa c'entra questa roba con gli integrali? Spesso e volentieri noi lavoriamo nel piano cartesiano, quindi la situazione standard è che noi avremo una funzione, poi adesso ne prendo una completamente a caso, ecco, abbiamo una funzione fatta così, questa è la nostra FDX, e ci verrà detto, guarda, di questa funzione considera soltanto un tratto, che ne so, da A fino a B, qua, in questo modo, si forma una regione piana, cioè una figura bidimensionale, poi la forma appunto può essere qualsiasi roba, eh. In matematichese, quando avete una forma che non ha un nome generico, cioè che non è un rettangolo, un triangolo, un cerchio, sa il diavolo, viene chiamato trapezoide, quindi questo coso è un trapezoide, e ti dicono farlo ruotare attorno, che ne so, all'asse delle X, questo genera un solido appunto di rotazione, cioè è questo affare che viene fatto girare in questo modo, si crea un mega solidone, una sorta di barilotto strano, calcola il volume di questo solido. Questa è la situazione con cui lavoriamo noi solitamente. Vi dico subito come funziona con le formule. Quindi cominciamo occupandoci del volume di rotazione attorno all'asse X, è il caso più semplice, quello più comune, volume di un solido generato dalla rotazione attorno all'asse X di una funzione, adesso poi vi faccio vedere un esempio fatto per bene, è pi greco, il pi greco vecchio solito numero pi greco, integrale tra AXBX, poi vi spiego cosa vogliono dire queste robe qua, di FDX, quindi la funzione che avete sotto mano, alla seconda in DX. In realtà non è niente di tragico, cioè dovete fare un normalissimo integrale definito. L'esempio che vi porto per capirci è, vi danno Y uguale radice di X più 2, e vi dicono calcola il volume di rotazione tra il grafico l'asse delle X e le rette X uguale a 1 ed X uguale a 3. Cosa ci stanno dicendo in pratica? Cioè noi abbiamo la nostra bellissima funzione radice di X più 2, se siete curiosi è fatta all'incirca così, quindi questa è la nostra funzione FDX. lui ci sta dicendo ti devi limitare tra X uguale a 1 e X uguale a 3, in questo modo si forma una regione di piano, cioè praticamente questo, di nuovo si chiama trapezoide, perché non c'ha una forma geometrica particolarmente definita, lato sopra è curvo. Sto coso deve ruotare attorno all'asse LX, cortesemente calcola il volume di rotazione del solido che viene fuori, viene fuori una sorta di ciambellone strano. Chi sono AX e BX? Sono gli estremi della regione sull'asse LX. In questo caso ce l'ha detto qualche esercizio palese, cioè AX per noi è uguale a 1 e BX è uguale a 3, cioè la regione che stiamo considerando va sull'asse LX da 1 a 3. Non ce ne frega niente del range sull'asse LY, che sarà invece importante per un'altra tipologia. Bene, dentro nell'integrale c'è la funzione elevata al quadrato, quindi devo fare l'integrale P greco per l'integrale da 1 a 3, chi è F di X alla seconda? È radice di X più 2, quindi piglio proprio brutalmente la mia funzione, elevata al quadrato in DX. Qua tra l'altro ho scelto qualche esempio io strafurbissimo, perché elevando al quadrato mi si leva la radice, quindi questa è l'integrale di X più 2 in DX. Questo integrale ve lo risolvete, quindi ho pi greco, X quadro mezzi più 2X, che devo valutare tra 1 e 3. Per fare questo conto qui integrale definito, quindi vabbè poi ho pi greco, devo buttare dentro dei numeri, quindi ho 3 alla seconda, 9 mezzi più 6, meno la stessa cosa fatta con l'1, quindi un mezzo meno 2 parboni. E quindi qua vi mettete lì, fate tutti i vostri bellissimi calcolini del caso, questa roba viene fuori il pi greco per, il rendimento che rimane un bellissimo 8, 8 pi greco è il volume dell'affare in rosso che si è generato dalla rotazione attorno all'asse LX. Quindi piglata la funzione, elevata al quadrato, fate l'integrale definito, mettete davanti il pi greco e siete praticamente a posto. Facciamo un altro esempio per capire meglio come funziona questa formula. Calcolo il volume di rotazione della regione di piano tra la funzione 1 fratto radice di x quadro più 1, l'asse delle x, la retta x uguale a meno 1 e la retta x uguale a 1. Com'è fatta quella funzione lì? Se la disegnate vi esce fuori indicativamente una roba del genere, una sorta di campana simmetrica rispetto all'origine. E qua so già cosa state pensando, c'è qualcuno che dice eh Matteo ma come devo fare sempre il disegno? Non è obbligatorio, non sta scritto nella Bibbia, non è inciso sulla pietra, però vi consiglio caldamente di farlo, perché poi vedete con le tipologie successive a volte avere il disegno sotto mano importante, uno a prescindere magari non sa quale tipo di procedimento deve seguire, quindi fatevi sempre il disegno, tanto vi fate giusto i limiti ai bordi del dominio, vi fate il massimo e minimo della funzione e un disegno indicativo ce l'avete immediatamente. Mi devo fermare tra meno 1 e 1 e lui ci dice guarda devi fare ruotare la regione di piano che si forma, quindi questa roba qua in mezzo, la fai ruotare a tonalasse lx e calcola il volume. La formula è sempre quella, quindi io dovrò fare pi greco integrale di chi sono a x e bx meno 1 e 1, la regione di piano va da meno 1 fino a 1 sull'asse lx, la mia funzione 1 fratto radice di x quadro più 1 da elevare alla seconda in dx, quindi ho pi greco integrale sempre tra meno 1 e 1 elevando al quadrato quello è 1 fratto x alla seconda più 1, questo integrale qui è bellissimo perché 1 fratto x quadro più 1 è la derivata dell'arco tangente di x da valutare sempre tra meno 1 e 1, quindi qua devo fare la sostituzione, questo è pi greco arco tangente di 1 meno arco tangente di meno 1. Se non vi ricordate quanto valgono questi valori male, malissimo, comunque ve li fa la calcolatrice, l'arco tangente di 1 è pi quarti, quello di meno 1 è meno pi greco quarti, quindi qua diventa più, di dentro dovete fare l'operazione, quindi esce un bellissimo pi greco quadro fratto 2. Questo è il valore del volume del solido che esce fuori, lo so che pi greco quadro fa sempre strano, però è corretto, questo è il volume del solido di rotazione. Cosa succede se invece la rotazione intorno all'asse y non cambia tantissimo, volume è pi greco integrale tra a, y e by, qua poi importantissima sta cosa, di occhio f di y, manco a dirlo, elevato al quadrato in dy. So che sembra un po' particolare perché gli integrali in dy magari non sono così comuni almeno finora per voi, facciamo subito un esempio per capirci. Ci danno come funzione y uguale a 4 meno x quadro e ci dicono questa funzione qui delimita una regione di piano con i semiassi positivi, calcola il volume di rotazione attorno all'asse y. Capiamo come è fatto il grafico di quella funzione y uguale a 4 meno x quadro. È una bellissima parabola girata con la pancia in giù, quindi è fatta così, qua sopra sta in 4 e interseca in meno 2,2. lui ci dice che c'è una regione delimitata da quella roba lì e i semiassi positivi, che vuol dire ci sta parlando di questa fetta di vela qua. Questa è quella che lui ci sta dicendo, fai ruotare questa roba attorno all'asse ly, viene fuori una specie di cupolozzo, calcola il volume di rotazione dell'affare che salta fuori. Però una rotazione attorno all'asse ly. Cosa vuol dire? Che dentro l'integrale c'è f di y. Vuol dire che voi dovete esprimere la funzione non più in funzione di x, ma in funzione di y. Detto in altre parole, f di y, a meno di casi particolarmente strani o comodi, è f alla meno 1 di x. Tradotto in un altro modo, vuol dire devo invertire la funzione. Detto in modo ancora più semplice, invece che avere y uguale a roba, come ce l'ho adesso, io voglio arrivare ad avere x uguale a, e poi dall'altra parte roba con le y. Quella roba lì sarà f di y. Cosa vuol dire in questo caso invertire la funzione? Facciamolo, tanto ci vuole un secondo. y uguale 4 meno x quadro. Devo isolare la x, cioè devo trattarla come se fosse un'equazione dove devo trovare x. Quindi sposto x quadro dall'altra parte. La y è un parametro numerico per voi. Lo so che è una bestemmia per i matematici, ma all'atto pratico quella roba lì io la tratto come un numero, quindi sposto l'y dall'altra parte col 4. x quadro è 4 meno y. E qua devo fare la radice, x uguale a più o meno radice di 4 meno y. C'è il più o meno in mezzo ai piedi, in realtà ce ne frega relativamente poco perché tanto poi dovremmo fare il quadrato, però per essere corretti, di questi due risultati devo prendere solo quello col più, cioè più radice di 4 meno y perché? Perché lui mi sta parlando della regione di piano delimitata dai semiassi positivi, quindi sono diciamo nella parte del primo quadrante del piano cartesiano dove tutto è positivo. x uguale a più radice di 4 meno y. Ecco, questa roba qua che mi è uscita è la mia f di y, cioè è l'espressione che contiene le y invece delle x. Questa è quella che va ficcata nell'integrale. Quindi devo fare volume uguale a pi greco integrale tra ay e by, adesso capiamo quanto sono, di quella roba lì, quindi radice di 4 meno y, da levare alla seconda in dy. Poi il fatto che la lettera dentro l'integrale sia y, chi se ne frega, cioè lì risolviamo l'integrale normalissimo come se l'avrebbe fosse x. Ecco, occhio a chi sono ay e by. questi due sono i due estremi della regione che sto facendo ruotare, ma riferenti all'asse y, non più all'asse lx. Se io vado a vedere nel disegno, sull'asse x questa roba va da 0 fino a 2, ma non me ne frega niente, io sono interessato a capire dove va sull'asse ly. Sull'asse l'y questa roba va da 4 a 0, cioè il range in verticale è quello lì. Ecco, sono i due numeri che poi effettivamente vanno dentro l'integrale come estremi, quindi questo va da 0 fino a 4. Anche per questo vedete che è utile aver fatto il disegno, almeno ho un'idea di dove diavolo sono piazzati quei valori lì. Buono, e qua devo risolvere l'integrale, questo non è neanche particolarmente brutto, quindi integrale, pi greco sempre da 0,4, li elevo il quadrato, quindi ho 4 meno y in dy, e questo lo devo effettivamente poi svolgere, quindi ho pi greco, è 4y meno y quadro mezzi, mezzi, sempre da valutare tra 4 e 0, quindi avrò pi greco, sostituisco prima il 4, 16 meno 16 mezzi, questo è con il 4 dentro, meno con lo 0, 0 meno 0, e quindi questa roba mi esce 8. Pi greco, questo è il volume di rotazione del cupolozzo che ho ottenuto. Non è detto che sia lo stesso valore che ottengo dalla rotazione naturale all'asse lx, attenzione, cambiando asse di rotazione, può tranquillamente cambiare il volume, perché l'oggetto che viene fuori effettivamente è diverso. Facciamo un altro esempio, questa volta un po' più calcoloso, ci sono un po' più di conti da fare, ma è per abituarci all'idea, considera la regione tra il grafico della funzione, l'asse y, e la retta x uguale a pi greco mezzi. Calcola il volume di rotazione attorno all'asse y. Come è fatto il grafico di coseno di x quadro? Occhio, non è cosquadro di x, ma è coseno di x quadro. Il coseno di x alla seconda è fatto così, quindi la forma è tipo quella del coseno, ma sta sempre sopra, e il punto in cui tocca l'asse delle x è sempre il solito buon pi greco mezzi. Di cosa ci sta parlando lui? Quindi tra il grafico della funzione, tra pi greco mezzi e l'asse ly, dobbiamo limitarci a questa zona qua. Questo va fatto ruotare attorno all'asse y, viene fuori un solido che sembra tipo un barba papà, un coso strano. Vogliamo quel volume lì. Per poter fare il conto, devo prima invertire la funzione, quindi a me serve non più y in funzione di x, ma al contrario. Questa funzione è un coseno, quindi per invertirla devo usare l'arco coseno. Quindi la prima roba che faccio è dire, questo è arcos y uguale x quadro, faccio la radice, x è uguale a più o meno radice del arcoseno di y. anche qui c'è il problema del più o meno, che in realtà è abbastanza rilevante, perché tanto verrebbe comunque tutto elevato alla seconda. Nel dubbio comunque prendo quello positivo, perché la regione di piano di cui mi ha parlato lui sta nel primo quadrante. Meraviglioso, quindi vado a calcolarmi l'integrale, il volume è y, integrale di ay e by, adesso ragioniamo su quali sono i suoi valori. lì dentro ho radice di arcos y da elevare alla seconda in dy. Chi sono ay e by? Sono range in verticale, tra cui varia la mia regione, dal grafico io vedo che sono 1 e 0, quindi ay è 0 e by è 1. Non sono quelli orizzontali, ma quelli verticali, visto che la rotazione torna all'asse y. Qui arriva la parte divertente, cioè risolvere effettivamente questo integrale, e quindi sempre pi rego 0,1, poi il quadrato lì, mi sono fatto l'esempio apposta, mi cancella la radice e devo fare l'integrale dell'arcoseno di y di y. Come si fa l'integrale di questo coso qui? Perché il dubbio può anche essere legittimo. Questo è uno dei cugini dell'integrale dell'arco tangente, del logaritmo, così questo si fa per parti. In che modo si fa per parti? Intanto ci costruiamo la nostra bellissima tabellina per parti, che se non vi ricordate è fatta così, f, f' g' g. Devo scegliere f, g' all'interno del mio integrale, in questo caso la scelta è abbastanza obbligata, perché arcos y non mi metto a integrale direttamente, perché quello sarebbe il mio obiettivo, quindi come g' devo per forza scegliere 1, e f è arcoseno di y. Vado a completare la tabella, quindi g, che è l'integrale di g' è semplicemente y, occhio che stiamo integrando in y e non in x, la x è sparita completamente e non ce ne frega più niente. La derivata dell'arco coseno è meno 1 fratto radice di 1 meno y quadro. Visto che qua mi sono scelto la formula per parti, quindi ho davanti sempre un mega pi greco, che moltiplicherà tutto quanto, poi ho tra dentro f per g, quindi in questo caso sarebbe y per arcos y, da valutare sempre tra 0 e 1, meno, e qua ho l'integrale di f' per g, quindi meno 1 fratto radice di 1 meno y quadro per y in dy, questa integrale è sempre definita tra 0 e 1. Come risolvo l'integrale lì dentro? Quello invece si fa per sostituzione, visto che sotto al denominatore c'è quella radice brutta, bruttissima, abominevole. Facciamo questa, quindi per risolvere solo questo qua, come sostituzione io pongo t uguale a 1 meno y alla seconda. Adesso deriviamo a destra e a sinistra, moltiplicando per i differenziali, quindi ho dt uguale a meno 2y di y. Questa sostituzione è particolarmente comoda, perché al numeratore vedete che io ho un meno y, lì ci sarebbe meno 1 per y, però facciamo che facciamo la moltiplicazione, così non impazziamo. Eccolo qua. Quindi posso far sparire il dy con il meno y, l'unica cosa che mi manca è un 2, che non c'è, però lo aggiungo io, quindi qua moltiplico per 2, compenso mettendo l'un mezzo fuori, e in questo modo questi signori qui mi diventano dt. Quindi la parte iniziale rimane identica, e quindi ho pi greco, e poi lì c'è sempre y per arcoseno di y, questo potremmo già calcolarlo, però per adesso pensiamo a finire gli integrali, meno un mezzo integrale, sempre tra 0 e 1, di adesso di dentro, quindi il dy è sparito e diventato dt, sotto al denominatore con la mia sostituzione ho semplicemente un t, cioè l'ho fatto apposta per avere questa roba qua. Questa è un integrale fattibile, cioè tutto sto circo era per riuscire ad arrivare a questa roba qua. Qui ho scritto un'imprecisione, i matematici mi perdoneranno, gli estremi di integrazione non sono più 0 e 1, perché ho fatto la sostituzione, dobbiamo ricalcolarli, cioè visto che ho cambiato t con 1 meno y quadro, se y vale 0, t diventa 1 e l'altro diventa 0. Tanto alla fine risostitueremo comunque la t, però per essere corretti si fa così. Va bene, a questo punto devo effettivamente fare i calcoli, qua comincio a non avere spazio, quindi aspettate che sposto, ok, la parte iniziale è sempre la stessa, quindi lì ho sempre y arcos y da valutare tra 0 e 1, meno un mezzo, come faccio a fare quell'integrale lì? 1 fratto radice di t in realtà è t alla meno un mezzo, quindi quando lo integro lì dentro ottengo t alla un mezzo fratto un mezzo. questo ho da valutare tra 1 e 0. Volendo potete risostituire la t, quindi arrivati a questo punto, uno dice, vabbè, ho risolto l'integrale con le t, posso risolverlo risostituendo 1 meno y quadro a scelta vostra, e viene una roba del genere, cioè all'interno del posto da t, 1 meno y quadro, gli estremi di integrazione tornano ad essere i buoni vecchi 1, 0. Tra l'altro notate che un mezzo e un mezzo mi si semplificano pure, quindi la vita diventa bella e sorridente, e ora bisogna effettivamente fare il conto e sostituire, cioè adesso è soltanto un'espressione da valutare tra 1 e 0. Tra l'altro la cosa bella è che il primo termine, questo qui, è tutto nullo, nel senso che se provate la sostituzione, vi esce al posto della y, lì avete 1 per l'arcoseno di 1, che però è 0, meno 0, quindi tutto sto blocco qua che sarebbe lui, si cancella, non ce l'ho, poi ho da fare meno, qui la valutazione è sempre tra 1 e 0, ma di nuovo uno dei due pezzi è nullo, perché il primo è 1 meno 1 al quadrato alla seconda, però tanto fa 0, questo coso qua, meno la stessa cosa valutata in 0, questo è l'unico che si salva da tutto questo pezzo qui. Quindi alla fine dei conti il risultato è semplicemente pi greco, quindi il volume di rotazione di coseno di x alla seconda, trovano l'assele y tra 0 e x uguale a pi mezzi, esce un bellissimo pi greco. Grazie mille. Grazie mille.